Anche la protezione civile di città di Castello nelle zone terremotate, ma per proprio volere anche della regione Umbria, la protezione civile Umbra è nelle postazioni di Cascia e Norcia, dove sono state allestite alcune tendopoli. E per quello che riguarda la protezione civile Tifernate sentiamo proprio il presidente Sandro Busatti. Quando avvengono questi casi noi abbiamo un sistema che è ormai collaudato da tanti e bruttuosi eventi. Anche in questo caso c'è un sistema di allarme del gruppo che ha consentito tramite i nostri vertici e i nostri volontari tutti di poter rispondere alla richiesta del Dipartimento di protezione civile della regione Umbria per preparare immediatamente una colonna di soccorso. Abbiamo partecipato con sette volontari che sono partiti assieme a tanti altri provenienti da altre città della regione e siamo stati inviati nella zona di Cascia e Norcia, che sono i comuni Umbri insieme a Castelluccio, che sono stati più colpiti dal sisma. La necessità in questo momento di assistenza alla popolazione è messa in secondo piano. Il primo punto era quello di ripristinare la possibilità di sicurezza per i cittadini. Pertanto abbiamo allestito tendopoli sia a Cascia che a Norcia. Ritengo che il Dipartimento regionale abbia fatto un'ottima scelta sul destinare i nostri volontari sulle zone che appartengono al territorio regionale. È un presidio importante, anche perché è molto vicino all'epicentro. C'è da dire che la zona più colpita dove sono intervenuti i volontari di altre regioni, in particolare la regione Marche, la regione Toscana e altri gruppi specializzati, intervengono anche in un territorio molto difficile, impenetrabile da un punto di vista viario. Quindi in questo caso devo dire che i tanti e la confusione potrebbe essere un aspetto negativo. Noi abbiamo avuto la città di Castello, un'esperienza assolutamente positiva, fatta dal comune di città di Castello in occasione del terremoto dell'Aquila. In quella circostanza il comune si fece promotore di un'iniziativa collettiva di raccolta che faceva sì che tutte le varie associazioni che volevano intervenire e fare cose avessero un unico terminale che serviva in qualche modo a coordinare questi aiuti. In particolare, io sottolineo, di cominciare a pensare invece a un'opera diversa, magari raccogliendo dei fondi finalizzati per un qualcosa che potrà essere chiesta ai comuni interessati, magari per il ripristino delle scuole, per la sistemazione di quelle che potranno essere delle aree di accoglienza. E noi abbiamo partecipato in questi precedenti episodi. Ecco pertanto l'importanza di fare delle iniziative coordinate e far sì che invece delle gocce nello stagno non servano a nulla e diano semplicemente dei problemi di organizzazione che poi si traducono in nulla.